Musica Bentornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale. Da oggi in Lombardia una legge per riconoscere e sostenere le associazioni che commerciano prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo è a chilometro zero. Una legge regionale sul commercio eco e solidale. Il Parlamento Lombardo ha approvato all'unanimità il provvedimento che sosterrà le organizzazioni del settore, tutelando i promotori e i consumatori. Il testo, illustrato da Agostino Alloni del PD, riprende contenuti di una proposta di legge del 2012, sostenuta da 8.000 firme, e si occupa anche della filiera corta lombarda. La legge stabilisce criteri per il riconoscimento delle associazioni, istituisce un albo e una consulta specifici, mette a disposizione 100.000 euro per le attività didattiche e di promozione. Il Consiglio ha colto l'occasione per approvare un ordine del giorno, illustrato da Federico Lena della Lega Nord, che chiede alla Giunta di attuare le norme sulla promozione nelle mense pubbliche di prodotti biologici a chilometro zero. Aprirà il 23 di maggio la nuova tangenziale di Como e sarà gratuita almeno fino alla fine di Expo per quanto riguarda la parte di competenza di Società Pedemontana. Per il tratto autostradale, invece, la Regione sta cercando un accordo con Autostrade per l'Italia, in modo da contenere il pedaggio a solo 2,20 euro. Lo ha detto il Governatore Maroni durante il dibattito in aula su una mozione su questo tema, presentata dal PD e approvata a larghissima maggioranza. Una mozione per invitare il Governo a togliere l'Imu su funivie e impianti di risalita nelle comunità turistiche montane e lombarde. Il documento, che prende spunto da una sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa in materia, interesserebbe 48 esercenti per un totale di 270 impianti, la maggior parte in grave difficoltà economica. Un migliaio sono i lavoratori direttamente interessati, con un indotto che coinvolge altri 7.000 addetti. Sono 66 i comuni lombardi al voto per le elezioni amministrative del 31 maggio, interessati quasi 800.000 cittadini, tra cui quelli dei capoluoghi Lecco e Mantua. Con i due comuni capoluoghi sono altri 14 comuni in Lombardia con più di 15.000 abitanti, per i quali è previsto l'eventuale turno di ballottaggio il 14 giugno, se nessun candidato superasse il 50% al primo turno. Si tratta di Lonato del Garda e Rovato a Brescia, Biadana-Mantova, Seregno-Imbrianza, Bollate, Colonio-Monzese, Corsico, Parabiago e Segrate a Milano, Vigevano e Voghera a Pavia, Samarate, Saronno e Somma Lombardo a Varese. La provincia con il maggior numero di comuni al voto è proprio Varese, dove saranno rinnovate 11 amministrazioni comunali, seguita da Bergamo con 9. In Vianza si voterà in un solo comune, così come nell'Odigiano. Studenti delle scuole superiori avranno tempo sette mesi per presentare progetti multimediali nell'ambito del concorso destinato alle scuole e promosso dal Consiglio regionale. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. La Lombardia vista e raccontata dagli studenti delle scuole superiori, che realizzeranno video sulla nostra regione fra passato, presente e futuro, per un concorso indetto dal Consiglio regionale. I ragazzi dovranno inviare entro il 20 novembre 2015 i materiali video, che potranno essere realizzati con telecamere, macchine fotografiche digitali, cellulari e tablet. Saranno ammessi prodotti multimediali di qualsiasi genere, reportage, spot, documentari, fiction, dedicati alla Lombardia, dalle istituzioni, alla cultura, alla storia, al paesaggio, al costume. Ai vincitori e alle scuole saranno assegnati premi da 2.000 a 5.000 euro, viaggio di istruzione di due giorni, presso le istituzioni comunitarie di Bruxelles, per la classe prima classificata. I dettagli per partecipare al concorso sono sul sito del Consiglio. Questa era l'ultima notizia. Ulteriori approfondimenti su lombardiacotidiano.com. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Grazie per aver guardato il video.